La prima cosa che volevo dire a proposito di questo libro è un libro veramente bello. C'era un solo definizione di Berenson che disse qual è il metodo pratico e essenziale per sottificare la bellezza di un libro ed è l'aumento di vitalità che dà. Leggendo questo libro la vitalità aumenta in modo vertiginoso, perché è un libro che ha soscritto con grande grazia, con grande precisione, con assoluta funzionalità, non soltanto, ma con grande spirito di una parte, che fa ridere quasi come un libro umoristico, fa ridere da soli e nello stesso tempo immediatamente il lavoro del riso viene un nuovo lavoro, un nuovo lavoro, un attirittura e l'acqua negli occhi tanta è la precisione e la verità del problema che si pone, che come gli interi spettatori sanno è il problema della scuola italiana. E oltretutto c'è anche la coscienza di restitistica di questo libro, perché questo libro viene contenuto una delle più straordinarie definizioni di quello che deve essere la poesia, cioè un odio, un senso di vendetta verso gli altri, una volta approfondito e liberato, diventa amore. Dunque, di questo tempo devo dire, in generale, tutto il bene possibile, non mi è mai capitato di essere così entusiasta di qualcosa e di sentirmi così, in questo senso, obbligato, costretto a dire agli altri, leggetelo. Perché oltretutto è un libro che riguarda sia la scuola, come argomento specifico, ma nella realtà riguarda la società italiana, la qualità diventa italiana. «Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome, ne ha bocciati danni. Io invece ho pensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate». Due anni fa, in prima magistrale, lei mi intimitiva, del resto la timidezza accompagnata la mia vita. La ragazza non alzava gli occhi da terra, strisciava le parenti per non essere visto. Sul principio credevo che la timidezza fosse una malattia mia o il massimo della mia famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un modulo di telegramma. Il babbo osserva e ascolta, ma non parla. Più avanti ho creduto che la timidezza fosse una malattia dei montanari. I contadini del Piavo mi sembravano più sicuri di sé, gli operai poi non se ne parla. Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento. Dunque sono come noi. E la timidezza dei poveri è un mestiere più antico. Non gliela so spiegare io che ci sono dentro. Forse non è nevità né eroismo. È solo mancanza di prepotenza. All'elementare lo Stato mi offrì una scuola di seconda categoria. cinque classi in un'aula sola. Un quinto della scuola a cui avevo diritto. È il sistema che adoperano in America per creare le differenze tra bianchi e neri. Scuola peggiore ai più poveri. Scuola peggiore. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Over me. Over me. And before I be a slave, I'll be burning to my grave. And go home. And go home to my Lord. And go home to my Lord. And be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Over me. Over me. And before I be a slave, I'll be burning to my grave. And go home to my Lord. And go home to my Lord. And be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Over me. Over me. And before I be a slave, I'll be burning to my grave. And go home to my Lord. And go home to my Lord. And be free. Finita l'elementare, avevo diritto ad altri tre anni di scuola. Anzi, la Costituzione dice che avevo l'obbligo di andarci. Ma a Vicchio non c'era scuola media. Andare a Borgo era un'impresa. Chi ci s'era provato aveva speso un monte di soldi ed era stato respinto come un cane. Ai miei poi la maestra aveva detto che non sprecassero soldi. Mandatelo nel campo. Non è adatto agli studi. Il papolo le rispose. Ma dentro di sé pensava che se si stesse di casa a Barbiana sarebbe adatto. A Barbiana tutti i ragazzi andavano a scuola dal prete. Dalla mattina presto fino a pubbio. Estate e inverno. Nessuno era negato per gli studi. Ma noi arrivavamo di un altro popolo. E lontani. Il pavo stava per arrendersi. Ma poi seppe che anche un ragazzo di San Martino ci andava. Allora si fece coraggio ed andò a sentire. Quando tornò vedi che mi aveva preso una torcia per la sera, un gavettino per la minestra e un paio di schivaloni di gomma per la nera. Il primo giorno mi ci accompagnò lui. Ci si mise due ore perché dovevamo farci strada con la facce. Ma poi imparai a farcela in poco più di un'ora. Passavo davanti a due sue case, con i vetri rotti, abbandonati da poco. Ma tra l'altro mi mettevo a correre per una vipera o per un matto che abitava da solo una rocca e mi gridava di lontano. Avevo undici anni. Lei sarebbe morta di paura. Vede? Ognuno ha le sue timidezze. Siamo pari dunque. Barbiana, quando arrivai non mi sembrava una scuola. Non c'erano banchi, le caffedano e lavanti. Soltanto dei grossi tavoli attorno a cui si faceva scuola e si mangiava. Di ogni libro c'era una copia sola. E i ragazzi gli si stringevano sopra. Si faceva fatica a capire quel che qualcuno era un po' più grande e insegnava. Il più vecchio di quei maestri aveva sedici anni, il più piccolo dodici e mi riempiva d'ammirazione. Decisi sin dal primo giorno che avrei insegnato a me. La vita era dura, anche la sua. Disciplina scenata da per perdere la voglia di tornare. Ma chi era senza basi, lento, svogliato, da noi diventava il preferito. Lo si accoglieva come voi accogliete il primo della classe. Sembrava che la scuola fosse tutta quanta solo per lui. Finché non aveva capito, gli altri non andavano avanti. Non c'era ricreazione. Non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava un gran pensiero. Perché il lavoro è peggio. Ma tutti i borghesi che venivano a farci visita facevano la polemica su questo punto. Un professorone disse Lei, il rapenegro, non ha studiato pedagogia. Polianus che dice che l'attività sportiva per un ragazzo è una necessità fisica, psico. Metà di un paralone che adoperò per il professore che non ricordiamo che è intero. Parlava senza guardarci. Per il resto, che insegna pedagogia all'università, il ragazzo non ha bisogno di guardarli in faccia. Li tiene tutti a mente, come non si tengono a mente le tabelline. Finalmente se ne andò. E Lucio, che aveva 36 buche nella stalla, disse La scuola sarà sempre meglio della merda! Questa frase va scolpita sulla porta delle vostre scuole. Milioni di ragazzi e contadini sono disposti a sottoscare il ragazzo. Che i ragazzi odiano la scuola e amano il gioco, lo dite voi. Noi contadini non ci avete interrogati. Siamo un miliardo e quattrocento milioni. Del resto, tutta la vostra cultura è costruita così. Come se il mondo intero foste voi. La scuola è costruita così. La scuola è costruita così. Iscriviti a un altro sottotitolo Non, 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 non Allora, maestro, o meglio, lo ero tre e mezz' giornate alla settimana Insegnavo francese, matematica e geografia a prima media Per sfogliare un'atrante o spiegare le frazioni Non occorre un laurea Se sbagliavo qualcosa, poco male Era un solieve per i ragazzi Si cercava insieme Le ore passavano serene, senza paura e senza solp次ge Lei non sa la scuola come me E mentre insegnavo, imparavo tante cose Per esempio ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Dall'avarizia non ero mica vaccinale. Sotto esame avevo voglia di mandare al diavolo i più piccoli a studiare da me. Ero come i vostri ragazzi, ma lassù non potevo confessarlo né agli altri né a me stesso. Mi toccava essere generoso anche quando non ero. A voi vi parla poco, ma come i vostri ragazzi fate meglio. Non gli chiedete nulla, li invitate soltanto a farsi strana. Dopo l'istituzione della scuola media a Vicchio, a Barbiana arrivarono anche i ragazzi di paese. Tutti bocciati naturalmente. All'apparenza il problema della timidezza con loro non esisteva, ma erano contorti in altro modo. Per esempio consideravano la vacanza il gioco un diritto, la scuola un sacrificio. Non avevano mai sentito dire che è la scuola che bisogna andare, perché è un privilegio andarci. Il maestro per loro stava dall'altra parte della barricata. Conveniva ingannato. Cercavano persino di copiare. E ci vuole del tempo a capire che non c'era registro. Anche sul sesso. Gli stessi sono trasfuggi. Ogni volta che vedevano un galletto sopra una gallina, si davano certi comitati come se avessero assistito ad un adulterio. Noi avevamo un libro di anatomia e loro si rifugiavano in un cartuccio a sfogliare. Due pagine erano tutte consumate. Più avanti si accorgerono che sono bellini anche le altre. E poi che bella anche la storia. Qualcuno non si è più fermato, gli interessa tutto, fa lezioni più piccine, è diventato come noi. Qualcun altro invece siete riusciti a ghiacciare un'altra volta. Delle bambine di paese non ne venne nessuna. Forse per le difficoltà della strada. O forse per la mentalità dei genitori. Che pensano che le donne possano vivere anche con un cervello di gallina. I maschi non le chiedono di essere intelligenti. È razzismo anche questo. Ma su questo punto non abbiamo nulla da riproverarvi. Le bambine le considerate molto più voi dei loro genitori. La storia è razzismo anche questo. 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 con la lettura. I professori l'avevano sentenziato in delinquente e non avevano tutti i torti, ma non è un buon motivo per allevarselo di turno. Nell'uno e nell'altro avevano intenzione di ripetere. Erano venuti da noi soltanto perché noi ignoriamo le vostre conciature e mettiamo ogni ragazzo nella classe adatta a lui. Si mise Sandro in terza e Gianni in seconda. È stata la prima soddisfazione della loro povera vita scolastica. Sandro se ne ricorderà per sempre. Gianni se ne ricorda un giorno sì e un giorno no. In poco tempo Sandro si appassionò a tutto. La mattina seguiva il programma di terza e intanto prendeva nota delle cose che non sapeva e la sera frugava nei programmi di seconda e di prima. A giugno il cretino si presentò alla licenza e vi toccò passarlo. Con Gianni fu più difficile. era uscito dalle vostre scuole in alfabetta e con l'odio per i libri. Noi con lui si fecero i salti in ortale. Si riuscì a fargli amare, non dico tutto, ma almeno qualche materia. Bastava solo che lo riempiste di l'odio e lo passaste in terza. Ci avremmo pensato noi a fargli amare anche il resto. Ma all'esame una professoressa disse Perché vai alla scuola prepanta? Non vedi che non ti sai esprimere? Ora, lo vedo anch'io che Gianni non si sa esprimere. Battiamoci il petto tutti quanti. Ma prima voi, che l'avete cacciato di scuola l'anno prima. Bella dura la vostra. Del resto bisognerebbe intendersi su cosa significa lingua corretta. Le lingue le creano i poveri e seguitano a rinnovarle all'infinito. I ricchi le cristallizzano per poter sfottere chi non parla come loro o per coggiarlo. Voi dite che Pierino del dottore parla bene. Per forza. Parla come voi. Appartiene alla ditta. La lingua che parla Gianni è la lingua del suo papo. Quando era piccino, Gianni chiamava la radio LALLA. E il papo serio non si dice LALLA. Si dice ARADIO. Ora, se è possibile, sarebbe bene che anche Gianni imparasse a dire RADIO. La vostra lingua potrebbe essere utile. Ma fino ad allora non avete il diritto di cacciarlo da scuola. Tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di lingue. L'ha detto la Costituzione, pensando a lui. Ma voi avete più in onore la grammatica della Costituzione. E così Gianni non si è fatto più vedere neanche da noi. Non ce ne diamo pace. Lo seguiamo di lontano. Se è saputo che non va più in chiesa né alla sede di nessun partito. Va in officina e spazza. Nelle ore libere segue le mode come un burattino obbediente. Il sabato sera a ballare. E la domenica allo stadio. Voi di lui non sapete neanche più che esiste. Così è stato il nostro primo incontro con voi. Attraverso i ragazzi che non volete. E lo sappiamo anche noi che con loro la scuola diventa più difficile. E a volte viene la tentazione di levarsi di torno. Ma se perde l'oro, la scuola non è più scuola. Diventa un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Uno strumento di differenziazione sempre più irrimediabile. E voi? Voi ve la sentite di fare questa parte nel mondo? E allora insistete, tornate a cercare, ripetete tutto da capo all'infinito a costo di passare per pazzi. Molto meglio passare per pazzi che essere strumento di razzismo. Molto meglio passare per pazzi che essere strumento di passare per pazzi. Molto meglio passare per pazzi che essere strumento di passare per pazzi. Molto meglio passare per pazzi che essere strumento di passare per pazzi. Molto meglio passare per pazzi che essere strumento di passare per pazzi. Se tu fossi la mia... A giugno del terzo anno di Barbiana mi presentai la licenza media come privatista. Il tema fu Parlano le carrozze per roviare Ora, nei tre anni di Barbiana Io avevo imparato che le regole fondamentali dello scrivere sono Avere qualcosa di importante da dire Che sia utile a tutti o a noi Sapere a chi si scrive Raccogliere tutte le informazioni che servono Trovare una logica con cui ordinare Eliminare ogni parola che non serve Eliminare ogni parola che non stiamo parlando Non porsi i limiti di tempo Così scrivo con i miei compagni questa lettera Così spero che scriveranno i miei scolari Quando sarò un maestro Ma di fronte a quel tema Che cosa me ne facevo delle regole sane e umili dell'arte di tutti i tempi? Se volevo essere onesto Dovevo lasciare la pagina in bianco E criticare il tema di chi me l'aveva dato Ma avevo 14 anni E scendevo dagli monti E per andare alle magistrali mi ci voleva la licenza E quel fogliuccio Era in mano a 5 o 6 persone Estrarie alla mia vita E a tutto ciò che amavo e sapevo Gente disattenta Con il coltello della parte del marco Io Io ci provai a scrivere come volete voi Posso ben credere che non ci riuscivi Di scuro scorreva meglio gli scritti dei vostri signorini Abituati a frigger aria e a rifrigger luoghi comuni Il compito di francese fu un concentrato di eccezioni Gli esami vanno aboliti Ma se li fate Siate almeno onesti Le difficoltà vanno messe in percentuale con quelle della vita Se ne mettete di più Viene il sospetto che abbiate la maniera dei trabocchetti Come se foste in guerra con i ragazzi Chi ve lo fa fare? Il loro bene? Il loro bene no Passò con no Il ragazzo che in Francia non saprebbe neanche chiedere dei gabinetti Sapeva soltanto chiedere di gufi, ciottoli e ventagli Sia al plurale che al singolare Avrà saputo al massimo 200 vocaboli E scelti col metodo di essere eccezioni Non di essere frequenti Il risultato? Il risultato è che odiavo il francese come si potrebbe odiare la matematica Io le lingue le avevo imparate con i dischi Senza quasi accorgermene Avevo imparato prima le parole più utili e frequenti E quell'estate Ero andato a Telenobla a fare il lavabbiato in una trattoria Mi ero trovato subito a mio agio E all'ostello avevo fatto amicizia con ragazzi d'Europa e d'Africa Ero tornato, deciso di imparare lingue tutto spiano Molto meglio tante lingue male Piuttosto che una sola bene Pur di poter comunicare con tutti Conoscere uomini e problemi sempre nuovi Ridere dei satiri confini delle patrie Nei tre anni di Barbiana Noi avevamo fatto due lingue invece di una Francese e inglese Avevamo un vocabolario sufficiente a reggere qualsiasi conversazione Certo Pur di non farla tanto lunga con gli sbagli di grammatica Ma la grammatica emerge solo quando si scrive Quando si parte e quando si legge se ne può fare a meno Poi pian piano col tempo si orecchie Chi vuole più tardi la può studiare Del resto anche con la nostra lingua funziona così Si riceve la prima lezione di grammatica dopo otto anni che si parla Dopo tre da che si legge e che si scrive Agli orari Sebbe una sorpresa I vostri signorini parevano dei posti di cui tu la faranno scese Per esempio sapevano discorrere con naturalezza dei castelli della Loira Poi si sape che avevano fatto solo quello tutto l'anno Avevano dei testi che sapevano leggere e tradurre Se fosse venuto l'ispettore Avrebbero fatto miglior figura loro di noi Ma l'ispettore non esce dal programma E lo sa lui come lo sapete voi Che quel francese non può servire a nulla E allora perché lo fate? Voi per l'ispettore L'ispettore per il provveditore Il provveditore per il ministro E' l'aspetto più sconcertante della vostra scuola Vive fine a se stessa Anche il fine dei vostri ragazzi è un mistero Forse non esiste Forse è volgato Giorno dopo giorno tu ti rompere il registro Per la pagella, per il diploma E così facendo si distraggono dalle cose belle che studiano Scenza, arte, storia Tutto diventa vuoto e nient'altro Dietro quei fuori di carta C'è solo l'interesse individuale Il diploma è quattrino Nessuno di voi lo dice Ma stringi, stringi Il succo è quello Per studiare volentieri nelle vostre scuole Bisognerebbe essere arrivisti già a 12 anni Ma a 12 anni Gli arrivisti sono pochi E' per questo che la maggior parte dei vostri ragazzi Puoti alla scuola Il vostro invito volgare Non meritava altra risposta La storia di questo mezzo secolo Era quella che sappiamo meglio Rivoluzione russa Fascismo Guerra Resistenza Liberazione dell'Africa e del Tasi E' la storia in cui sono vissuti il babbo e il nome E poi sappiamo bene la storia in cui vivo io C'è il giornale Che a Barbiano leggevamo da cima a fondo Ad alta voce Tutti i giorni Sotto esame Due ore al giorno spese sul giornale Ciascuno le strappa alla propria avarizia Perché non c'è nulla sul giornale Che serva ai vostri esami Ed è la riprova Che c'è poco nella vostra scuola Che serva nella vita Proprio per questo bisogna leggere E' come gridarvi in faccia Che un lurido certificato Non riuscirà a trasformarci in vesti Lo vogliamo solo per i nostri genitori Ma politica è cronaca Cioè le sofferenze degli altri Ballino più di voi e di noi stessi Alla prossima 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 Quando la scuola è poca Il programma Lo ha fatto badando solo alle urgenze Pierino del dottore A tempo di leggere anche le novelle Gianni no Gli è scappato di mano a 15 anni E' in ufficina Non ha bisogno di sapere Se è Giove che ha partorito Minervo O viceversa Nel suo programma di Berliano Ci stava meglio il contratto nazionale Dei metalmeccanici Lei signora l'ha letto? No E non se ne vergogna E' la vita di mezzo milione di famiglie Che siete colti ve lo dite da soli Avete letto tutti quanti gli stessi libri Non c'è nessuno che vi chieda qualcosa di diverso Agli esami di ginnastica Il professore ci tirò la palla E ci disse Giocate a palla canestro Noi Noi non si sapeva Allora il professore ci guardò con disprezzo E ci disse Ragazzi infelici L'abilità di un rito convenzionale Gli pareva importante Poi andò dal preste E disse che voleva rimandarci a settembre Perché non avevamo educazione fisica Ciascuno di noi Era in grado di arrappicarsi Era in grado di arrappicarsi su una quercia E lassù A quattro metri di altezza Levare le braccia in alto E abbattere a colpe d'accetta Un ramo di un quintale Poi trascinarlo in cortile Sulla neve Fino alla soglia di casa Ai piedi della mamma Ma hanno raccontato Che un signore a Firenze Per salire a casa sua Prende l'ascensore E lassù Si è comprato un arggeggio costoso Hop 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 E fa finta di remare Hop Hop Voi l'educazione fisica Gli dareste dieci Prende l'ascensore Prende l'ascensore Abbiamo letto la legge Il programma della nuova media La maggior parte delle cose Scritte lì dentro A noi ci sta bene E poi c'è il fatto Che la nuova media Esiste È unica È obbligatoria È dispiaciuta alle destre È un fatto positivo Fa solo tristezza Saperla in mano vostra La rifarete classista Come l'altra? Però c'è un filo di speranza Nell'articolo 3 Istituisce un toposcuola Di almeno dieci ore settimanali Poco più avanti Però lo stesso articolo Vi offre la scappatoia Per non farlo Dice che in toposcuola Sarà attuato Previo accertamento Delle disponibilità locali Dunque la cosa È rimessa in mano vostra Il sindaco di Vicchio Prima di far partire In toposcuola comunale Chiese il parere Degli insegnanti di Stato Arrivarono 15 letti 13 contrarie E 2 a favore Il motivo ricorrente È che se il toposcuola Non è ben fatto È meglio non lo fare I ragazzi di paese Erano nei bar E per le strade Quelli di campagna Nel campo Di fronte a questa situazione Il toposcuola Non può mai sbagliare È buono tutto Altri di voi Hanno in odio L'uguaglianza Giocare il popolo sovrano È facile Basta raccogliere Nella stessa sezione Tutti i ragazzi Per bene Non è necessario Conoscerli di persona È sufficiente conoscere Età Pagella Origine Nord Sud Provenienza Campagna Città Professione del papo Raccomandazioni E così vivranno Nella stessa scuola 3 o 4 medie diverse La A È la media vecchia Quella che fila bene I professori Se la leificano Un certo tipo di genitori Fa gara a metterci il bambino La B La B Un pochino meno La C E così via Tutta gente Onorata I prezzi I professori Non fanno per sé Fanno per la cultura I genitori Non fanno per sé Fanno per l'avvenire Del bambino Farsi strada Unità che sta bene Ma se lo si fa per lui Diventa un dovere sano Avrebbero vergogna A non lo fare I genitori più poveri Non fanno nulla Non sospettano neanche Che queste cose esistano Anzi Sono quasi commossi Ai loro tempi in campagna C'era solo una terza Se le cose non vanno È perché il bambino Non è portato per gli studi Me la deve il professore Uh che persona gentile Gli ha fatto accomodare Gli ha fatto vedere il registro Un compito pieno di freddi blu A noi non ci è toccato intelligente Pazienza Andrà nel campo Come siamo andati noi La scuola ha un problema solo I ragazzi che perde La vostra scuola dell'obbligo Ne perde per strada 462 mila all'anno Di fronte a questa situazione Gli unici incompetenti di scuola Siete voi E li perdete per strada E non tornate a cercarli Non noi Vi troviamo nei campi E nelle fabbriche E li conosciamo da vicino I problemi della scuola Li conosce la mamma di Gianni Lei che non sa leggere Li capisce Chi è in cuore È un ragazzo bocciato E ha la pazienza Di mettere gli occhi Sulle statistiche Allora le cifre Si mettono a gridare Contro di voi Dicono che di Gianni ce ne ha milioni E che voi siete O stupidi o cattivi Bocciare È come sparare in un gestore Forse era una lepre O forse era un ragazzo Lo si vedrà a tempo Fino all'ottobre successivo Non sapete che cosa avete fatto È andato a lavorare O ripete E se ripete Vi farà bene o male Si farà le basi Per seguitare meglio O vi depierà sui programmi Sempre meno adatti a noi Dei sei ragazzi bocciati Quattro Stanno ripetendo la mia Per la scuola Non sono persi Ma per la classe sì La maestra Non se ne dà pensiero Perché gli sale sicuro Nell'aula accanto Forse si è già dimenticati Per lei Che ne ha 32 Un ragazzo è una frazione Ma per il ragazzo La maestra è molto di più Ne ha avuta una sola E l'ha cacciato Gli altri due ragazzi Non sono più tornati a scuola Sono a lavorare nei campi In tutto quello che mangiamo C'è dentro un po' Della loro fatica L'alfabeta In tutto Sei mamme Hanno saputo Cos'è la nostra scuola Quattro Si sono visti Il loro figliolo Estirpato Dalla classe Dagli affetti E desiliato Di immediare Con compagni Sempre più giovani Due Se lo sono visto Tagliato fuori Per sempre Le mamme Non sono sante Non vedono Al di là Del loro uscio Ma il bambino Il loro bambino È di qua La uscia Lui almeno Non se lo potrà Mai dimenticare Non ne fautches Altra cosa Il loro bambino Non sono Noi Noi E La uscia C'est l'impression que c'est de là qu'on parle des problèmes Il est temps qu'on s'accepte et que tout sera s'arrête On ne fait pas les mêmes rêves, nos destins ne sont pas les mêmes Alors pourquoi veux-tu que je voie le monde comme toi ? J'ai l'impression que c'est de là qu'on parle des problèmes Il est temps qu'on s'accepte et que tout sera s'arrête Pour mes yeux loups, les pas bleus, azurs, les tiens voiles, ils comprennent les reflets du ciel J'ai l'impression que c'est de là qu'on parle des problèmes J'ai l'impression que c'est de là qu'on parle des problèmes J'ai l'impression que c'est de là qu'on parle des problèmes Il est temps qu'on parle des problèmes Gianni ha ormai 14 anni e dovrebbe ricominciare la prima media. A questo punto seguitare diventa assurdo. Anche passando sempre, finirebbe a 17 anni. La noia della scuola è al colpo. Il lavoro è facile a trovarsi, fra pochi mesi è anche legale. Gianni sa bene che non è bello lavorare, ha voglia di portare a casa la busta. Gli secca di dover essere rimproverato per ogni soldo che spende. I genitori stessi insistono sempre più debolmente. Ci voleva in loro e in lui una costanza che è di pochi. Una passione per lo studio nata da sé e così forte da non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Ci voleva una mano da parte vostra. Voi la mano l'avete stesa per farlo ruzzolare. La più accanita professoressa sosteneva di non aver mai cercato né avuto informazioni sulle famiglie dei ragazzi. Se ho un compito da quattro, io gli do quattro. E non capiva, poveretta, che è proprio di questo di cui era accusata. Perché non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. La più accanita professoressa sosteneva di non aver mai cercato. La più accanita professoressa sosteneva di non aver mai cercato. La più accanita professoressa sosteneva di non aver mai cercato. La più accanita professoressa sosteneva di non aver mai cercato. Voi dite di aver bocciato i cretini e i disvogliati. Allora sostenete che Dio fa nascere i cretini e i disvogliati nelle case dei poveri. Ma Dio non fa questi dispetti dei poveri. E' più facile che i dispettosi siate voi. Un presidente di scuola media ha scritto che la Costituzione purtroppo non può garantire a tutti i ragazzi E' uguale sviluppo mentale ed uguale attitudine allo studio. Ma del suo figlione non lo direbbe mai. Non gli farà finire le medie. Lo manderà a zappare nel campo. Anche i signori hanno i loro ragazzi difficili. Ma li mandano avanti. Del resto solo i figli degli altri qualche volta ci pagliano cretini. I nostri no. Stanno di accanto. Ci si accorde che non lo sono. E nemmeno sfogliati. O perlomeno sentiamo che sarà un periodo. Che passerà. E che bisogna trovare un rimedio. Allora è più onesto dire che tutti i ragazzi nascono uguali. E che se in seguito non lo sono più. La colpa è nostra. E dobbiamo rimediare. E' esattamente quello che dice la Costituzione quando parla di Gianni. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Senza distinzione di lingue, razza, condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Articolo 3. Articolo 3. C'è un comazzatore C'è un comazzolo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Spesso ci è venuto il fatto di parlare del padrone che vi manovra, di qualcuno che ha tagliato la scuola a sua misura per voi. Esiste. Sarà un robetto di uomini, seduto attorno a un tavolo, che tira le fila di tutto. Banche, industrie, partiti, stampa, mode. Noi non lo sappiamo. Sentiamo che a dirlo il nostro scritto assume un che di romanzesco. Mai non devi allora. C'è da farvi ingegno. È come sostenere che tante rotelle si sono messe insieme per caso e ne è venuto fuori un cargo armato che fa la guerra da sé. Passare che non merita è un'ingiustizia verso i più bravi, disse una rinuncia delicata. Allora chiami Pierino indisparso e gli faccia il discorso del padrone in linea i uomini. Te ti passo perché sai, ma hai due fortune. Quella di passare e quella di sapere. Gianni lo passo per fargli il coraggio, ma ha la disgrazia di non sapere. Perché il nostro sogno di uguaglianza non resta solo un sogno, vi proponiamo tre riforme. Non bocciare. A quelli che pagliano tre fini basta dargli la scuola a tempo pieno. Agli svogliati basta dargli uno scopo. Cercasi un fine. Bisogna che sia onesto. Grande. Che non presupponga nel ragazzo null'altro che d'essere uomo. Che vada bene perché ne denti e datevi. Io lo conosco. Il priore me l'ha indicato quando avevo undici anni e ringrazio Dio per questo. Ho risparmiato tanto tempo. Ho saputo minuto per minuto perché studiavo. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in un'epoca come la nostra, come si vuole amare se non con il partito, il sindacato, la scuola, siamo sovrani. Non è più il tempo delle nemosine ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi. Contro la fame. Contro l'analfabetismo. Contro il razzismo. Contro le guerre coloniali. Ma questo è solo il fine ultimo. Da ricordarsi di tanto in tanto. Il fine immediato. Da ricordare minuto per minuto. È quello di intendere gli altri e di farsi intendere. E non basta certo gli italiani. Perché gli uomini hanno bisogno di amare anche al di là delle frontiere. E dunque bisogna imparare tante lingue e tutte vite. Perché è solo la lingua che fa uguali. Eguale è chi sa esprimersi e sa intendere le espressioni altrui. Che sia ricco o povero importa meno. Basta che parli. Quando possederemo tutti quanti la parola, gli arrivisti continuino pure i loro studi. Vadano all'università. Arraffino i diplomi. Facciano i quattrini. Assicurino i professionisti che servono. Basta che non chiedano una fetta di potere più grande. Come hanno fatto finora. Basta che non chiedono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. partì per l'Inghilterra avevo 15 anni dapprima lavorai da un contadino a Canterbury e poi da un vinaio a Londra nella nostra scuola andare all'estero equivale ai vostri esami è teoria e pratica insieme la cultura al bagno della vita a Londra stanno peggio che in campagna lavoravano sul teorane della city a scaricare canna i miei compagni di lavoro erano inglesi che non sapevano scrivere una lettera in inglese allora spesso se la facevano scrivere da Dick e Dick chiedeva aiuto a me che ho studiato sui dischi anche lui parla soltanto Cockney 5 metri sopra le nostre teste stavano quelli che parlano l'inglese della regina il Cockney non è molto diverso ma chi lo parla è segnato nelle loro scuole non bocciano deviano verso scuole di minor pregio nelle loro i poveri si specializzano a parlare male e i ricchi a parlare bene dalla pronuncia si capisce quanto uno è ricco e che mestiere fa il pappo in caso di rivoluzione si sbudeleranno tutti quanti facilmente e quando tornai in Italia non ricordavo nemmeno più di essere stato timido per venire a Firenze mi levavo alle 5 prima il motorino avvicchi e poi in treno in treno è difficile studiare solo folla baccano alle 8 ero davanti ai cancelli della vostra scuola ad aspettare quelli che si levano alle 7 4 ore al giorno di svantaggio dopo un mese della vostra scuola l'infezione aveva preso anche me durante l'interrogazione sentivo il cuore fermarsi auguravo agli altri quello che non volevo per me durante la lezione non ascoltavo più pensavo già all'interrogazione dell'ora successiva le materie più belle e diverse tutte finalizzate lì come se non appartenessero a un mondo più vasto e non a quel metro quadro tra la lavagna e la catena a casa non mi accorgevo che la mamma stava male non domandavo notizie dei vicini non leggevo il giornale la notte non dormivo la mamma piangeva il papo il papo frontolava fra sé buschi di più si avviene al bosco e ritrovai a studiare come un verno fino ad allora di ogni cosa vedevo solo come l'avrei spiegato ai miei ragazzi ma dopo la vostra cura mi parve troppo persino il manuale mi ritrovai a sottolineare solo le parti più importanti e poco più tardi i miei compagni vi consigliano dei libricini ancora più miseri del manuale fatti apposta per contentare le vostre testorine arrivai pensino a pensare che aveste ragione voi che la cultura vera fosse la vostra che noi assù nel nostro isolamento ci si fosse montati la testa come un semplicismo che voi avete superato da secoli che è il nostro sogno di una lingua che possa essere letta e parlata da tutti fatta di parole di ogni giorno fosse soltanto un'operalismo fuori tempo ci mancò un pelo che non diventassi come voi come i figli dei poveri che vanno all'università e cambia razza ma non feci in tempo a corrompermi quanto correva per piacere a lei a giugno lei mi dette 4 in latino e 5 in italiano ripresi la strada del bosco in tornaio e parviato giorno per giorno dalla mattina a sera come da piccino ma non ripresi appieno il ritmo della scuola per l'urgenza di quei due esami il priore li dispensò dalla lettura del giornale e da far scuola ai due piccini studiavo da soli in una stanza per trovare il silenzio e i libri che non ho a casa a settembre lei mi dette 4 e 4 non sa far bene nemmeno il suo mestiere di farmacista il bilancino non le funziona non potevo saperne neanche aggiungo lei ha girato un interruttore spento un ragazzo e invece senza volerlo mi ha riacceso la luce ho riaperto gli occhi su di voi e sulla vostra cultura per prima cosa ho trovato l'ingiuria giusta per definirvi siete soltanto dei superficiali una società di mutuo incensamento che si regge perché siete pochi mio fratello e il papo vanno al posto per me io non posso ripetergli anni e non intendo portarli addosso lasciando il mondo così com'è avreste troppa soddisfazione e così sono tornato a Barbiana e a giugno mi sono presentato come privatista mi avete fregato di nuovo come sputtare per terra ma io non ce l'ho sarò maestro e farò scuola meglio di voi la seconda vendetta è questa lettera ci abbiamo lavorato tutti insieme ci ha lavorato persino Gianni ma il papo all'ospedale avesse avuto lo scorso anno lo sguardo da uom che a oggi ormai per la scuola è tardi a casa hanno bisogno della sua busta d'apprendista ma quando ha saputo della lettera ha promesso che ci sarebbe venuta da aiutare qualche volta finalmente è venuto la lettera ci ha indicato parole e frasi troppo difficili ci ha autorizzato persino a metterla alla berlina è quasi l'autore principale ma non consolabile per così poco all'anima ce l'avete voi non si sa ancora esprimere ora siamo qui ad aspettare una risposta ci sarà pure in qualche istituto magistrale qualcuno che ci scriverà cari ragazzi non tutti i professori sono come quella signora non siate razzisti anche voi anche se non sono d'accordo con tutto quello che dite so bene che la nostra scuola non va perché solo una scuola che fosse perfetta potrebbe permettersi di rifiutare la gente nuova e le culture diverse ma la scuola perfetta non esiste non lo è nella nostra nella vostra e comunque a quelli di voi che vogliono essere maestri venite venite a dare gli esami qua giù ho un gruppo di colleghi disposti a chiudere due occhi per voi a pedagogia vi chiederemo soltanto di Gianni a italiano vi chiederemo come avete fatto a scrivere questa bella lettera a latino vi chiederemo qualche parola antica che diceva vostro nonno a geografia vi chiederemo la vita dei contadini inglesi e a storia vi chiederemo i motivi per cui i montanari scendono al piano la scuola Grazie a tutti 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 Aspettiamo questa risposta Abbiamo fiducia che arriverà Il nostro indirizzo è Scuola di Barbiana Vicchio Mugello Firenze Grazie a tutti 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 Grazie a tutti